ha deciso di riavviarsi ah infatti ho toccato tutto qualcosa ma io non ho ancora capito chi è GetBird e perché gioco con noi l'ho conosciuto io in una partita eravamo sull'elicottero insieme era un mostro poi ho chiesto di amicizia me l'ho data e bomba però non ci ho mai parlato insieme non so che lingua parli no qui c'è una bottiglia d'acqua non so che cazza finita o a p comincia con a p prontissimo vai tanto va bene l'acqua arriva se no la rilancio ma è 40% sei in coda 40% no sto parlando del Luca scusa Luca sei in coda o entri? sa che è carattato di nuovo ma sento su figlio Luca ma sono due picchi diverse passa volume parte no non hai capito un cazzo lo sento io da qua passa volume che credi anche tu quindi Luca ma ci senti o no? ah ti ho parlato assieme ti ho detto vado a prendere l'acqua ho detto sei entrato o sei in coda ti chiedevo sono 4 di 5 eh allora è neanche uno di due 4 di 5 abbandona partita 3 di 4 infatti tu non ho capito se stavi entrando o no? no eh sono andato a prendere l'acqua devo dire conquista non è serata ho capito dovevo briccarmi pensavo fossi cresciato ancora no ho andato a prendere l'acqua ho sentito poi sentimi dovresti sentire mio figlio che scassa la micchia con Michael noi sentivamo lui parlare infatti lo sentiamo lui lo sentiamo Luca ha detto boh si vede che è cresciato ancora beh qua dove partite l'angoscia fate che lunare che è qua finito ok nulla dai aspettiamo Giacomo arrivo secondo 91 meno di un minuto ho fatto ciao mi guardo un po' le allora per sbloccare il cosa devi vedi per sbloccare i l'RPG lì devi allora 7 questo qua col montone devi usare mi pare l'altro razzo te lo scrive comunque cosa devi usare Luca io l'ho visto eh ma non ho già nera applicazione aggiornamento sì sì resti esserci te l'ho fatto al Marco montare al computer boh era lì che scriveva non ci capisco un cazzo minchia quattro fili sono porca madonna eh ma stavo l'ho mai fatta a paura di brasare tutto intanto scaldiamoci qua intanto che aspettiamo già stiamo montando il pc per la prima volta perché non è stato negozi vuole imparare eh vuole provare ma basta che ma io avrei una paura ma se c'è ma ormai è tutto per la complejo i cavi sono tutti diversi guardi un tutorial beh ma io avrei paura di spaccarla non della difficoltà cosa sta roba questa è un riscaldamento stiamo dominando lo scontro avanti così mi attesa di giacco applicazione aggiornamento 99% ah ma quando mi spara ancora prima che devi entrare non sai se un'altra intia verifica vediamo se dopo questo c'è un'altra roba che devo fare verifica eccolo da dietro no ha finito già abbiamo visto che vedi pochissimi stai bloccato al 24% devo ricaricare no ha l'unico devo scompattare i fight no lo puoi pingare ma che cazzo ma con tutti i match mi tiro una granata mi fai scompattare i miei amici minchia ma fai scompattare vai entro nei colpi ma il nostro server Luca che fino a casa sempre lì mi fai scompattare i miei amici minchia ma hanno sparato in partardici un alleato ha bisogno di aiuto Qua vanno giù di brutto Sarà un perché, no? Non capisco perché ci sono due cpu in alto, perché devi collegarle tutte e due? Serve per l'overclock, ce l'ho già scritto Ma deve collegarle comunque? Ma fa niente per attaccarle tutte e due comunque E non ce l'hai? No Perché non ce l'hai? Ma sì, ma c'è quelli nuovi Allora ce l'ha E' entrata a PC sulla scheda video E' un'entrata a PC Eh Sto facendo Sto entrando o no? Sì Cos'è that match? Passi Guarda, quale è un po' la squadra con noi? Vedi, vedi qua Una 61 Dai 63 Riportalo Allora, come si chiama? S5 Underscore V K Opens Ma non c'è Non è vero che ha that match Se ne pensavo a vabbè Vengala Oh no In che squadra sono Mi è già cresciuta già, non ci credo Oh no Che squadra siete? Ho fatto una squadra nuova Allora, squadra a sei Questa Ma non la vedo Vava in giù di brutto che sa come ha mai Non ti vedo più Giacomo Eh sì, ho staccato l'hospot Sto Faricendo l'accesso Ma potevi staccarlo da Questo no ha 90 di ping Ciò Non c'è tempo S215 Wolfenman S663 Perchè vado Ce l'ha fatta? Batte il 999 Dopo il 999 ci vuol cosa altro No Il nulla Cosa è tipo 6.000 ore? Damn Che squadra siete? Quadra Quadra Exiled Si è entrata per a muss Caccetta è fuori uno Eh, non possiamo Cambia squadra Quetzal Non ho la squadra Quetzal Ah no, non mi faccia Quadra Cos'è che sei? Quetzal Entrato Da, quello col cecchino Vabbè dai iniziamo bene Iniziamo bene Iniziamo bene Iniziamo bene Ma col cecchino col netmatch C'è, boh, è stato Non so che non gli possa avere Eh, non riesco a rimarci Giacomo Sono proprio lì davanti in ingresso Ah, aspetta che forse No, cazzo Adesso ho riuscito a prenderlo Occhio dietro E' arrivato un colpo nel culo Non so da dove Vedi che qua va Eh, qua va in giù Eh, la partita di prima Era al contrario Non faccio niente E' tempo per entrare che ero morto Eh, poi abbiamo un cittadino in squadra Eh, poi abbiamo un cittadino in squadra Eh, poi abbiamo un cittadino in squadra 121-1 Dai, però Che scandalo, raga Riportalo Avete riportato? No Giacomo, riportalo Ti spero se ne accorgano Anche se non mi riporto No, no Se intanto lo riporto E non mi frego un cazzo nel suo Vabbè riporto No, poi dopo Dove vedere quanto arriva Ha portato a terra e un alleato Non c'è tempo Dai usciamo Vado a una partita Che si chiamano? Squad, utenti S5 qualcosa Dai 131 S5 Vars pack Sfigato di merda Le comanda Marco Mi viene da pensare che devo mettere due cavi cpu e uno solo PCA Express per la scheda video Sì Sì Rispondi Piti dice Sì Vieni in vocale Boccacche Ho sbagliato, posso sbagliare? È il Montenegro Monte come? È per quello che non ne beccavi mai Dizio cazzo 311 eri sbronzo E la lingua è spessa Ma che è spessa? Faccevi la pavella Faccevi la pavella sulla schimania Sì Dopo guarda la live e lo vedi se faceva volare Io dicevo cazzo vanno giù come i funghi Ma che vanno giù come i funghi? Solo a te Sarà anche l'arma eh perché sto anno 91 Eh l'ho svinito me ne mancano 10 per farlo Eh lo so Alleluia Buongiorno Ha fatto fumo bianco? Un fumo nero Ha 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 È intelva ha fumo nero ehmd fa bianco Risponde Non può parlare Ah va beh Carro Uuuu Che lagata Un camando Carro Eh vieni Niente ma fa questa torretta schifosa che non ti senti viene a prenderla opzioni come è che si piaceva cambiare colore squadre, colore nemici colore utente colore utente io l'ho messo giallo abbiamo provato un po' di colori o lo metti vero dei guagnali il settore bravo è sotto il controllo americano se non li fermiamo gli americani prenderanno non li abbiamo neanche arrivato a fare la bandiera non li ho preso mi hanno dato i punti cosa è arrivato? da qui? occhio sinistra e sentienza io ho la canna a mozza eccomi quanti perdo credo persone che riescano a montare i carri con il fucile a pompa è stata arretta schifosa sai che salta? un altro Christian via 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 al giro ricaricando l'altimissile madonna ogni volta che metto il termico vi sento? ma penso che voi non mi sentite sono da cellulare no non ti sentiamo ah ma non c'è più un bocca eh l'ho visto io c'ho un colpo ogni quarto d'ora niente come l'ho detto oh è saltato no c'è un altro Christian che cazzo possiamo fare più che andare via non posso eh oh occhio è uno a piedi eh vado via sono danneggiato andiamo verso Bravo c'è una sega con questo lato qua no se lo prendi bene lo matti con un colpo solo però devi prenderlo proprio bene vai dai che è andato eh devo caricare dove è andato? questo è sparito vai 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 cazzo è andato va sopra là Christian a destra guarda lì a sinistra preso ho un problema occhio perché quel carro non l'avei preso hai solo due kill chi spargoli? porco dio eh quello eh non l'ho visto non l'ho visto eh ci ha fatto mica hai visto con un RPG ci ha fatto saltare eh beh è roba non è che roba eravamo danneggiati ah andiamo su in delta chi è che deve dare il gioco? l'indicatore è piastato è molto distante ah la hitze bello è nato bruciato bello è devo grande è nato bruciato ma non è gioco tranquillo non era in combattimento prendiamo risorse però l'ho fatto bene abbiamo un alleato a terra ti ho lasciato 78 vedete hai detto tutto figlio di Troy è andato via ma la corazza riassumetemi la situazione bello è da dietro il settore delta è sotto il nostro controllo ero dentro sono stato sbalzato fuori non so se non quale fisica fermo resta una manciata di settori li controlliamo quasi tutti muore il cazzo eh cristo dio sono da solo come un cane non posso neanche gli animali te 50 persone attorno ma che cazzo sempre in situazioni di svantaggio che due palle obiettivo perso dobbiamo riprendere il controllo andiamo di noi su vabbè quando mi ammazzano che neanche li vedi ma non è mai vero ero dietro al muro guarda dove sono morto aspetta sono qua arrivo e guarda dove sono morto anch'io guarda ma che compagno che spara un carro da dallo stratosfera che era un bel cazzo facciamo andiamo in bravo o no? 3 piedi non sotto bravo charlie go b bravo uno 15 capirno hai le cure giacomo ah mi hanno curato mi hanno curato ma ma che figlio di troia nascosto dietro il camion mamma mia mamma mia mamma mia ma siamo in situazione di svantaggio io l'ordine l'ho dato ragazzi non so perché rompe il cazzo che ti dice che non ho dato andiamo in sono andato in charlie oh sono andato con uno due che mi spavano nel culo vai così fantastico respawn fantastico respawn VHX vedo che lo usano tutti come prima non ce l'hai cambiato il cazzo pericolo è l'ordurano nemico eliminato niente porco dio un colpo col VHX un colpo mi ha appena ucciso un colpo mi ha appena ucciso assistenza fantastico fantastico il signore benedetto e adesso mi fa lasciare dall'altra parte vero? dai parro stile segnalato 40 metri no ma tranquillo vai via tranquillo vi ho perso io eh eh io ti lascio stare che sono in mezzo la merda hanno preso l'intero settore hanno eliminato metà dei nostri rufazzi che porco dio segnalo una minaccia circa 40 metri ma c'è un cazzo di carro che da inizio partita che sta sparando sulla montagna ma io non ho parole col cecchino da un metro ma come fai? no ragazzi c'è qualcosa che non mi va non è possibile che un caricatore non l'ho preso una volta bravo bravo è la terza volta che mi prende uno col cecchino da un metro e mezzo ma me la devo rivedere 24 minuti c'è un caricatore non gli ho fatto niente non mi ha registrato i colpi come primo ancora ma è sempre lui miglio di puttana cercava cercava di sparare continuo a morire porco dio porco dio eh si da tutte le direzioni ora le nostre truppe controllano il settore l'ho preso io stronzo ahahah ecco l'altro dio cane l'ho appena detto chiamateci in caso di bisogno siamo schiacciati completamente sono il solito copione i nascoli con voi cazzo niente sempre a tutte le direzioni uno dei nostri obiettivi è sotto attacco certo ci troviamo sempre l'ho scoperto quando mi ammazzo adesso esco ancora io ragazzi a 4-8 a 4-11 esco eh ragazzi ne avevo 15 contro io non so che cazzo abbiamo siamo sempre così sbilanciati come i finocchi veramente ma no ma dai ma è un gioco proprio da coglioni questo qua ma non riesce a bilanciare un cazzo cioè veramente cioè guai 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 non abbiamo una bandiera niente 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 guarda guarda sì il settore alfa è nostro resistenza è finito che è finito morto morto quattro volte che è finito aspetta luca sono qua in zona fresco c'è qualcuno in zona lì dove adoro sie sie un carro nel culo ah 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 eh wa ah le относ 5 zone avevo 11 poi spengono ah ahah il nemico controlla l'intero settore 19 6 5 10 vedo io eh da 11 spegnono ma abbiamo siesi quando continuo a morire nonえ tra i colpi che cazzo rob no guarda assist 11 assist vuol dire che il regista colpingo che cazzo vuole lui uscite uscite allora lancio l'esposizione canada con la preferita di giaco proprio peggio del giaco però se sei sempre uno contro quattro l'attività sismica nella columbia britannica ha danneggiato un centro di ricerca canadese statunitense una frana ne ha esposto l'interno danneggiando l'area non nasco neanche aspetto che mi nasce una bandiera per l'esame che fare non c'è un mezzo no appunto nasciamo in a1 quando la fanno non nascete e io provo a prendere il cecchino provo con l'aereo io no 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 facevo non sono io che guido come è possibile che a1 si in fase nostra e l'hanno già fatta ignorare il messaggio infatti mi sono già buttato via giù Luca andiamo a fare A1 come è possibile ha ragione Giacomo che in A1 base nostra non abbiamo la bandiera più uno la stanno facendo dove siete? A1 guardalo porco Dio adesso lo tiro mia Dio porco ve lo sto indicando ma ammazzate sto figlio di troia porco Dio sali? ma io veramente un figlio di puttana sta facendo tutti mi ha preso in testa con la desertiva Dio porco Dio porco che nervoso quando fa così Dio cane Dio morì Dio porco andiamo a prendere quel figlio di puttana era questa era la streak per lì perché porca madonna se ne manca una di puttana due più di qua qua la tre mi ha preso la schiena occhio Luca un colpo un colpo un colpo crats ci ha già ucciso quattro volte quello lì è sempre lui lui sta qua a camperare in A un colpo mi ha dato un colpo c'è andiamo giù dai mi sottogascio devo dire vaffanculo vado a fare in culo lui è sua mamma quella puttana tanto c'ha la mamma puttana ma questa è la nuova ci hanno respinti da bravo 2 bravo 2 ma non è loco non è loco eh ma per cazzo ma hanno preso il controllo del settore bravo bersaglio a terra buongia morto Dio porco un altro camper dietro di te Giacomo una puttana eh vabbè paravate è ucciso mai con un colpo eh signora benedetta boh ma cioè sono sempre sotto fuoco nemico papà sono qua dietro vi terremo sott'occhio c'è uno è arrivato che mi ha fatto abbandonare la partita dai via 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 non prendiamo tempo ragazzi se non giocano via 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 guarda rianimato sulla granata è stato un lupo si si lo sapevo è stato io ma l'ha lanciata dopo l'ha lanciata dopo l'ha lanciata dopo ma non è che è da caso ma tante ti davano la killzone la cazzo da frente vabbè ma dai ma l'ha lanciata l'ha lanciata dopo invece a me è stato andato ad io vedi sono primo in classifica 5 e 1 5 e 1 mi serve un momento eh tu dimmi ma no ma le ma non è qui ma non è qui ma io non ho parole no appunto esci via 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 lancia no? l'ho lanciata lanciata dai vediata nera io manifesto fantastico quando giocano così da sfigati basta fare esca ultimamente tutto è così eh ma se giocano sti coglioni cioè comincia la partita la tua bandiera ci sono già 4 o 5 che camperano e aspettano che tu arrivi come è stato adesso ma è proprio giocare da sfigati ma proprio da i marini americani vogliono impossessarsi del porto la russia vuole che conquistiate tutti i settori con le nostre task force e impediate agli imperialisti di fare altrettanto confidiamo in voi il trasporto attende cosa sono andato? mamma signora dove sta roba? oh dov'è Giacomo? sto aspettando che c'è delle bandiere vieni con noi c'è a posto con noi vieni con noi clicca sul nostro nome oh ma perché c'è sensibilità il 3000x1000 qua sui veicoli veicoli mira con mouse vedi mira carro no abbiamo il controllo del settore alfa eh beh resta una manciata di seguito ci controlliamo quasi tutti ah no ha proprio baggata la torretta che sembra che vada ai 3000 all'ora day one i nostri hanno il controllo del settore alfa ma facevano ancora il difetto della telecamera i bag sulle torrette tipo i bag delle animazioni poi ci stanno proprio da day one ciao usciamo perché ci spara già un carro dietro va 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 che cazzo ci ha sparato eh non sono io che guido portato forze americane abitiate adesso disparte porco dio porco dio dietro giacomo dietro dietro c'è un cecchino là l'ho indicato si è buttato giù eh qui sta guardando ma lì non è dietro davanti era lì da ehi sempre nei punti di vista da come sono saliti cazzo tu stai lì a cecchinare ok guardalo là là sopra davanti guarda ce ne sono due minchia c'è il luca morto lì aspetta dove e che c'è gente a tua mamma ti aspettavo coglione eccolo con lo scudo dio cale tre ne avevo addosso ah c'è punto di rinascita sotto di te è pieno sotto la gru dove si porco dio adesso vengo a prenderti anche che non salgano è la seconda volta che mi fa questo qua a brawl adesso vado a prenderlo porco dio dove è? eh l'ho pingato c'è chi è nato appena nato giacomo ci sono sei cecchini ma prendili bene ne ho fatti altri due che si ne ha fatte lo scuro non ne riesce non c'è tempo qua va 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 non c'è cazzo non c'è cazzo di stare vivo ma è un punto di rinascita eh più di così quanti con che colpi guarda che figlio di puttana camper bastardo stai lì stai lì camper a lì vado in c1 a prendere i figli di puttana no c'è nessuno il punto ne ho presi 7 eh punto io sto cercando quello di prima poi spariscono mi ha ammazzato due volte dallo stesso punto non la trovo mica i nostri si comportano meglio del previsto stiamo tenendo dei settori ma non cazzo non lo so non lo so stavo cercando un cecchino mi ha visto un carro non so come ha fatto neanche a vedermi chiedete occhio Cristian ma che foda da dove eh sentivo pass ah ma il mio dio cane niente ma c'è chinato dalle spalle porco dio ma sono ovunque sono ovunque 23-0 per il cecchino del cazzo è sopra di lì ma non possiamo muoverci andiamo a fare le altre bandiere vai 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 non ti far male dove sei che arriva porco dio un missile mi ha tirato qua Cristian qua un missile mi ha tirato lo vedi no è là nella torretta per il cazzo ma basta dio cane ma sono stufo porco dio di averli davanti e dietro ma perché non riusciamo avanzare qual è il problema di sto gioco di merda ho preso quello da una torre il settore alfa è nostro 27-0 è no merda gli americani hanno il settore Charlie qualcuno nasce come per mettere un punto di rientro ciao dai vengo a fare il cecchino tanto è impossibile giocare è impossibile andare sono tutti sono tutti coricati ragazzi scout dove sei il tuo destino impedite agli americani di conquistare tutti i settori non riesco a nascere con te mi dice che sei sotto tiro eh adesso sono morto oh abbandona partita via basta non puoi uscire non puoi uscire da ogni passo che facciamo no sono tutto cazzo sono tutti di camperano anche voi qua davanti il filo mi piace giù resta una manciata di settori li controlliamo quasi tutti abbiamo catturato tutto il settore delta abbiamo il controllo di quasi tutti i settori ottimo lavoro uccisione almeno 75 metri devi stare ci sono giocati due di otto ho fatto subito a fare due partite porco dio vhx le perdi tutte non è non puoi competere se hai il vhx vini no se non li fermiamo gli americani prenderanno tutti i settori mi stai lanciando un'altra no ah è la lancia adesso una pugnata al monitor io la do chi è il capogruppo fai tu dai fai tu Luca lanciate tu la partita sulla gpu c'è solo un'entrata e quindi ne attacchi uno sulla mother 2 come si vede nello schema e quindi sulla scheda madre non deve attaccare un cazzo sulla scheda madre 2 ce ne è deve attaccare tutte e due ma la scheda madre cosa di connettore 2 2 2 pci di quelli stretti ma dove come dove la mia è la 2 ma perché c'è questa arma di merda il tar per quello che va un cazzo allora con questo è rientrata andavate a lanciare la partita poi c'è il secondo cavo bisogna che si sdoppia probabilmente perché c'è l'alloggiamento per altre due gpu penso non ti capisco un cazzo ma sulla motherboard cosa deve attaccare deve fare l'alimentazione basta singolo vedi che ha cpu power 1 e 2 ora lo sdoppio sulla mamma i russi ci colpiscono direttamente sono stanchi di perdere le nostre armi migliori sono della nord il suo impianto in scandinavia è stato così facile mappe così terza volta che facciamo portatevi armi potenti e restate al caldo colando chiudo facciamola questo è meglio di manifesto qualche cambio vediamo come va magari va bene riusciamo a giocare una partita e due non l'ho fatto ciao da farmi i russi hanno il settore alfa minaccia contrasta dai cazzo quella è la direzione sbagliata torna indietro iniziamo ad assicurarci nei settori il nemico decontrolla molti ho contatto con le truppe nemiche stiamo conquistando alfa 2 respingete le truppe bella la pesata iniziamo ci sono già arrivati dietro e appunto ho due entrate e ci sono una madre eh tu hai due dettagli se hai cavo se l'alimentatore ha il doppio cavo si porco dio metti lo sdoppio tu la mamma e il singolo 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 ma lui dice l'alimentazione diventa carlo l'alimentatore eh l'alimentatore ne ha uno ha un cavo da una parte singolo dall'altra parte doppio e dopo lo metti sulla scheda madre il singolo lo metto sull'alimentatore e uno non sono oggi più running simulator andando in charlie 2 ragazzi le forze nemiche controllano la maggior parte dei secondi ma io sto a fare un simulator per essere poi cerchinate esatto dove siete? io ho perso scusa fanno qua che c'è un carro che rompe il cazzo il c2 gli alleati stanno rincaggiando a charlie 2 che ti dico una cosa ecco porco dio fermo ecco porco dio ecco porco dio da dietro ma lukai dietro di te qua e qua e qua e qua qua dove sono i nostri piedi porco dio ce lo avevo in testa e non lo vedevo ma dai era sotto i piedi come ho fatto a non vederti questo qua va evidenti i problemi di cataratta niente porco dio ma sono sopra i cassonetti coricati dio cane ma come cazzo si fa giocare così come fanno andare lì tu non riesci neanche capire chi cazzo ti spara se ne sono quattro coricati sopra lì è una roba spaventosa di vedere le persone giocare così porco dio sono nato davanti a uno ma dio cane porco dio porco credi aspetta un secondo pieno pieno c'è una puttana uno che so dalle smada stasera sto tirando 100 bestemmi cazzo ma guarda che cazzo di 20 30 quello la 20 30 con chi è questo nato con luca porco dio giocchio che c'è qualcosa che lancia le robe esplosive carro c'è uno con la jeep sopra guarda porco dio è sopra il palazzo una puttana madonna no io sono stupo di giocare guarda guarda sono stupo di giocare con persone di merda così contro e mi ha ucciso guarda col ma sopra il palazzo dio porco non c'è niente ovviamente per andare là sopra perché non c'è niente per andare là sopra ma perché uno non dovrebbe stare di sopra qual è il punto punto eh sì vabbè non c'è niente 60 metri dalla mia posizione ma ti è passato uno dietro e non ti ha starato boh ma in che stiamo giocando è il secondo che manca completamente la vista nemico eliminato ecco mi ha bruciato nemico indicato su destra è una pistola fortissima gli alleati stanno incacciando all'obiettivo charlie 2 2 luca non l'abbiamo ferrato è una pistola fortissima abbiamo ancora risorse ma non sono infinite quale è nuova no questa è fortissima fortissima sto dando qua l'ho fatto esiste solo un momento ovviamente sulla granata arriva sempre quando mi stai dai porco dio posso aiutarti uso una granata lancia una granata obiettivi charlie sotto controllo settore in sicurezza il nemico attacca uno dei nostri obiettivi abbiamo il controllo della maggior parte dei settori ah ecco ecco no prova la la pistola la l9 c z si attaccano ho un cecchino a quello in mezzo il casino da che parte andiamo verso Bologna 1 il nemico ha il supporto aereo il nemico ha il senso e l'entri da te porco dio di quella madonna troi niente la schiena io sono cioè mi hanno ucciso tre volte la schiena vabbè si le pistole quelle lì con la ora c'è l'elicottero c2 faccio la partita in c2 hanno catturato il settore Charlie gli alleati stanno ingaggiando a Charlie 2 indietro ma non va in giù ragazzi non va in giù porco dio non va in giù ma io non lo so ma porca madonna i nostri hanno conquistato l'intero settore ecco scontatto l'afficinato ah ma vabbè tre colpi del cecchino per uccidere una torretta ma che cosa ne c'è che non fa Charlie 2 in sicurezza controlliamo gran parte dei settori il settore alfa è sotto controllo Charlie 1 non vedo nessuno se vedo qualcuno da che mi sparano da dire io un colpo e muoio un caricatore e non va in giù c'è qualcosa che non torna eeeh dove? dove? con il traglione arrivo c'è ancora qualcuno? no che campi oh ma che? segnalo un nemico a 40 metri da te ah andiamo verso Charlie dai eeeh segnalo un pericolo granata tutti rubati oh gli ocani gli sparo io gli danno il colpo di grazia agli altri non l'ho però io hanno appena preso il settore gli sparono dal mega farazzo gli alleati stanno incalciando a Charlie 1 si si ci sono quegli sfigati là sopra se non li fermiamo prenderanno tutti i settori guarda come si divertono quei la va 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 porcodino madonna puttana dio porco dio porco dio porco dio porco è arrivato un elicottero che ha smitragliato dietro la cassa dio porco vabbè ma come fai a non incazzarti dai stasera veramente la nostra forza è dimezzata ecco si dai si è già la seconda volta che mi fa l'elicottero dai mettila fuori la testa schifo non non ricarico u ricarico ho ricarico mi ha domani non ho rilassato il caso davvero il tuo caso cioè un obiettivo è sotto attacco ma sii voi c'è il carro sul palazzo perché questi qua non sa veramente fare un gioco basterebbe che puoi chiamare un carro su un grattacielo no punto Nio porco, ancora quello lì coricato, seconda volta che mi ha ucciso ragazzi Madonna puttana, ma sono obbligato a dire le bestemmie O c'è gente coricata in ogni angolo, guarda, guarda, guarda quello là col carro là sopra Ma c'è un cazzo di mezzo per poter andare a prendere quei pezzi di merda Qualcosa per andare a prendere quei pezzi di merda Siamo i vostri progressi Hanno catturato il settore bravo Boh, uno abbandonato Boh, dopo questo spengo Ah no, mi sono scattato il cazzo Un minuto, un'ora e zero due Non riesco a salire su quel cazzo dall'inizio partita che non c'è un mezzo per andare là sopra Cambia server, via di nuovo A parte che è la terza volta che facciamo sta cazzo di mappa Mi sei anche rotti i coglioni Mi dico il nome, dimmi perché io non me lo ricordo Orbita Oh, meno male Stasera che cazzo c'è? Tutti gli handicappati stanno giocando Tutta la partita col carro là Stavano facendo Era 24-0 da sopra il tè Cioè si divertono anche Prova a te Vai là a te Ti bombardano elicotteri Di tutto Noi non abbiamo un cazzo di elicottero per andare alla sopra Manche solo la motoretta Io prendo la 91 e continuo a darmi la M-TAR ogni volta che muoio Perché il personaggio mi ha messo la M-TAR Ma se lo sto mettendo qua, dallo home page Gli ho messo di mettere la 91 Da quando è che cambia il porco Dio? Mi trovo una Ogni volta che muoio mi trovo la M-TAR Ma io non lo voglio Voglio la 91 Perché mi devi mettere la M-TAR? Siate furbi, non commettete errori Sì, quando fanno le patch Gli cadate le voci sui personaggi Hai notato che quando fanno la patch Fai per un po' agire di merda Sappiamo che gli americani vogliono lanciare in orbita Ma ieri sera andava da Dio Ho fatto 30 kg La missione consiste nell'irrompere la struttura E impedire che gli americani la rompono Ma io vorrei anche sapere chi ha doppiato Sti poveri cristi di personaggi di gioco Non sarà una novità per voi, giusto? Non sarà una novità per voi, giusto? E' loro che leggono quello che gli descrivono Ma no Adesso saliamo nella stratosfera Ma porco Dio Ma 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 un albero Ma è possibile che non va giù un albero? No, c'era una roccia Ah sì, dai Siamo sassurati tutto il settore data Con uccidere l'aereo che l'ho fatta L'uomo dei nostri obiettivi è sotto a sacco Che si è trovato? ma la roccia la passa mi hai fatto perdere quello lì che c'era parlando sta già sparando un elicotero e siamo ancora fermi è un albero che devo fare questo gioco è fatto col culo non c'è un cazzo il battlefield 3 di ok sono venivano i condomini qua neanche il muletto sposto va porca madonna guardalo guardalo qua vedi qua qua carro di la carro di radia ma il giro destra fai giro destra adesso cercare quelli non lo vedo venga il tunnel qua un carro qua è un carro per il tunnel per il tunnel per il tunnel galleria galleria carro galleria carlo per far salire uno si è pagato con una l'albero ma pagato dei guano l'elepattro si è pagato con un albero e rinita che sta in sotto sotto la ma dietro luca dietro dietro che sono incastrato porco dio sono incastrato non fa ma avete dimmi tocco mine 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 no c5 luca eh no c5 che cazzo eh eh ho visto ho visto un make che ti si arrampicava sopra come al solito non fa mi ha durato troppo sto andando su and dietro di te cominciamo l'assalto a me cosa è successo? cosa è succedendo? fermo fermo ricarico porco dio mia madonna puttana quanto c'è a me adesso rianimarlo quel figlio di troia ricaricare ma scendi ma scendi ma scendi non c'è perché la zip ti fa andare solo lì su io come faccio a scendere da sto pozzo niente niente porco dio sono salito era lì che mi aspettava piantato alla destra lì alla vostra destra ce n'è uno alla vostra destra ero morto ma porco dio ma vaffanculo ma gioco del merda mi ha fatto nascere con un coglione che mi sparava nella schiena dove siete? cazzo ero in D1 un secondo sono stato vivo ero in D1 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 no vai dietro da sto sono a scelare lì caltera per sbagli sta la decisione confermata in rete di mettere piccolo guarda porco dio da dietro di nuovo no ma proprio basta lo devo staccare stasera devo staccare sono nascosti in tutti i settori ottimo lavoro fai che cazzo vuoi c'è un coglione nascosto nel cespuglio hanno conquistato il cespuglio però questo non è l'invito e sei tu e non me li dà meglio ma adesso me li dà perché fino a poco un secondo fara qualcun altro non so io non ecco guardato ma dov'è che sono settore eco e sotto il controllo americano era uno lì è lo giacomo è uno hanno catturato tutto il settore charlie stiamo attaccando l'obiettivo bravo uno devo andare per prendere dietro quelli del tunnel eh cecchina aspetta aspetta qua è qua arrivo 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 c'è gente qua fuori questo coglione qua del socio non l'ha visto si è passato sopra guarda coglione di merda mi hai fatto ammazzare testa di cazzo tieni tieni ti hanno respetti da un obiettivo ho il tiro di una granata lì dentro hanno conquistato un obiettivo seguiremo da qui il settore eco ha ceduto il nostro attacco bravo due tutto chiaro va davanti il nemico sta attaccando bravo uno hanno appena preso il settore delta attrezzatura nemica l'ho segnalata obiettivo sotto controllo eh porco dio quando si sparano si è dietro al muro si dà la kill occhio anche là hai visto l'ho pingato uno dei nostri obiettivi è sotto attacco non è che fate un tempo a sparare ah sta caricata baggata mamma mia le animazioni di un gioco mobile tutta scattosa abbiamo catturato tutto il settore Charlie qua vangio di brutto sto server vangio di brutto boh ok bene di 4 perché io sono nato con easy csgo quindi cosa poteva mai capitare porco dio madonna puttana quei figli di puttana che si mettono là io mi sono rotto il cazzo mi sono rotto il cazzo se non li fermiamo gli americani prenderanno tutti i settori si mettono a sussur easy csgo deve proprio morire soffocato ogni volta che nascono lui muoio fammi andare su fammi andare su dove sei abbiamo catturato tutto il settore delta vado a prendere il cerchino adesso dov'è sulla razzo non so dove vado a vedere porco dio coccato vediamo sto che hanno il controllo di bravo uno che è la madonna troia eeeh dio cristo certo che fare non vederlo ma fa ma dove cazzo era? era qua tra le scale guardalo guarda 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 dove si era messo così era ma porco dio eh mi ha ucciso quel quel figlio di puttana quale ha ucciso è proprio la tua visione periferica è proprio quella di un cavallo assistenza tua sorella assistenza tua sorella hai largato cosa diversa lo servono un colpo e una kill ma non è logico solo ma dai ma qua ma quanti tutti 5 6 ma sono da solo pareggio giù giù ma su di te c'era un coglione qua c'è una manciata di settore no ma in colpi i bandi no no adesso si prima no dove andiamo? v2 c'è uno nel culo ricarico porco dio porco dio porco dio ne avevo uno nell'orecchio porco dio dietro che ovviamente non si sente un passo ovviamente non si sente un cazzo vai vai si nati con uno che ti spara dalla montagna vai così fantastico adesso non faccio il tempo a vederli che muoiono eh ok c'è qualcosa che non va ragazzi dai livello server vorrei proprio capire come si sente un camper le forze americane controllano il settore alfa se non li fermiamo gli americani prenderanno tutti i settori oh oh dio cane brutti camper di sto cazzo ma mi vengo a prendere tutti una guarda 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 c'è eh l'elicottero sempre l'elicottero eh ha fatto anche a me ma ha impotenziato le mitragliatrici normali prima di essere due milioni di colpi si si adesso prrrrr morto dipende chi lo usa se lo uso di te non va in gioco cazzo ah che c'è qualche che coglione qua ah andiamo in D1 gli occhio lì sulla roccia ne uccisi guarda qua c'è un punto di rientro ah che ho sparato qualcosa a destra era noto ma no qua sopra era pieno di camper ne uccisi cinque prima sentite sparano occhio vicino alla roccia lì avviciniamoci piano qua qua è pieno le truppe americane si sono impadronite di un obiettivo è pieno è pieno ma è la loro bandiera che ti è passato da sinistra non l'hai visto guarda qua lì aiutatemi ad alzarmi no è di vita e tua mamma è la puttana hai visto quello che ho preso basta il memory tv arrivo Giacomo c'è qualcun altro un carro obiettivi conquistati settore alfa sotto controllo niente è sceso eh porco dio è sceso ad ammazzarmi gli stavo spaccando il carro finno 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 ahhh ahhhh pastel memory tv your streamer career will never blow up nig il settore Charlie è in sicurezza trasposto contrassegnato controlliamo la maggior parte dei settori sul campo eeeeeee eh ero dietro la roccia ma ha visto ugualmente lo so nyeee non mi avrai mettetemi in piatto dai carro placato in diamante porco dio con sto carro dio cane basta esco metto sto guardando uno in meno è uno dei nostri obiettivi è sotto attacco gli americani hanno preso l'intero settore eco ahhh 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 tua mamma la puttana è saltata il secondo carro che faccio saltare ehhh che cazzo il c5 da sempre soddisfazione e adesso non riuscirò ad avvicinarsi che cazzo che cazzo no non riuscirò cazzo che cazzo non è che ci sono più stronti niente quando sono su con la moto volante sono immortale come il cavallo di battle filumolo è sceso, è saltato giù e ce l'ha fatto anche ammazzarmi l'ho lasciato al 100% ad esempio esatto, proprio come il cavallo di battle filumolo tu puoi sparare quello che vuoi mi serve un momento la tempesta si avvicina mi sto ricaricando non è solo il cavallo di battle filumolo non è solo il cavallo di battle filumolo frutti merdosi che vi coricate veramente come delle merde stiamo vincendo almeno aspetta che sono circondato non è possibile che prima non facevo una kill adesso sono fatti 31 dai non ha senso si perché non stai nel modo giusto eccolo ma questo qua è di ocane ma va secondo me è il server per me è proprio un problema del server prima eravamo nel stesso server scusa, le ammettavano giù ma no adesso vanno giù di brutto prima no ma che me vanno giù mi sono sempre andati giù a me no prima no unità di terra o ti stava facendo qualcosa e che cazzo cioè adesso 33 prima meno uno cioè gioco sempre uguale stessa arma stesso personaggio ma che cosa sono riusciti a lanciarmi un c5 come botta finale sono riusciti a lanciarmi il c5 questa è sempre bella sta arma mica ma devo andare a prendermi tutti i camper nascosti quella che ha ucciso Giacomo era nascosto sopra un piano ma non mi viene neanche in mente di andare a cuore i carmili mi chiamate mezzanotte ho fatto l'amettar quasi rosso ancora non fate neanche in tempo stoppare ragione oh ragazzi ciao ogni patch sembra che per un po' peggiore il gioco scusate il cappellone adesso il cappellone ti aiuta però sei qualcuno vicino chi al radar caspola ha usato è tutta sera che lo uso non ho cambiato niente né arma né personaggio faccio due partite una merda facciamo una partita faccio 35 kg seguiamo il piano sto usando Crawford perché ha qualche raggio in più tanto sono quelli che devo fare quindi non è che mi cambia grazie a una frana nelle montagne rocciose canalesi abbiamo spiato Black Ridge c'è una minaccia diretta un'arma che non deve restare operativa andiamo in giro insieme la missione di oggi è urgente raggiungete la base con le altre forze alleate della Russia poi conquistate tutti i settori rimedieremo alla situazione il trasporto attende arrivare andiamo verso Alfa 2 dai stiamo già facendo Alfa 2 sono già lanciati in Alfa 2 che la motore è da volare l'amica avvista al 250 metri obiettivi conquistati settore Charlie sotto controllo portato forze americane avvistate boh mi ha già dato una canonata porco dio eh lo so c'è ancora uno c'è ancora uno dove? eh dove? a tua terra ma guarda con un RPG Luca un RPG spiegatemi perché quando lo uso io non lo basta no ma ne ho sparati tre uno all'altro a noi parco di supporto disponibile granata la fatta appiccicare me c5 boh non l'ho mica visto sì impedite agli americani di conquistare tutti i settori Gli americani hanno preso l'intero settore ECO Abbiamo preso il controllo di un obiettivo Eccolo Dio Qua non è dietro Porco Dio Luca sulla sinistra Sulla sinistra? No Sulla collina Due sulla collina Due sulla collina Non li prendo Uno ho fatto Porco Dio mi hanno tirato su Ma mi sparavano all'istante Ti ho perso Sono sempre qua c'è un carro dietro i coglioni Dentro la schiena Ok io che c'era uno Controlliamo la maggior parte dei settori sul campo Sulla torretta? No Mezzo di trasporto 110 metri Ok c'è chi non cristiano Luca dietro Dio cazzo Non l'ho visto Porco Dio Ma come fanno arrivare da dietro? Come cazzo fa? Guarda guarda Si ha quasi fatto Si Antenna Ma come cazzo fa arrivare lì da dietro? Che non c'è un cazzo lì Non c'hanno una bandiera non hanno niente E arriva uno a piedi lì da dietro indisturbato Antenna Adesso è un'antenna Quale antenna? Quella grossa Guarda che devi salire di obliquo Ma se no gli sbarano Non c'è un nemico Il nemico sta saltando Alfa 2 Gli americani hanno il settore char Sì Porco Dio Come siamo messi? Stiamo respingendo gli americani come pianificato Stronzo sull'antenna Se non li fermiamo gli americani prenderanno tutti i settori Mica sono andato a prenderlo Luca E anche io ci ho provato ma Ho fatto un cerchio Ma che antenna l'altra Non quella No no questa No l'altra C'è un'altra Ma quest'altra qua è piena Tiene su due Un colpo Mi ha dato un colpo Un colpo Alleato a terra Arrivo Luca Eh la madonna Eh sì Ti danno un colpo Questo cazzo di vacca Occhio 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 Puttana che pelo Ho visto che sparava all'altro Se sparava meno Fottuto eh Sì sì Abbiamo catturato tutto il settore Charlie Ma andiamo verso Alfa Ce n'è uno sopra l'antenna Ah l'han fatto Sì sì c'è un cerchino Però non si spara qua Solo uno Nemico segnalato Non è lontano Due cerchini Cristian Ah 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 L'elicottero Porco dio l'elicottero Porco dio Porco dio Porco dio Porco dio Porco dio Sto cazzo di elicottero Di merda Dio Bastardo Che ha la mobilità Di una zanzara Non è possibile Che gira lì All'infinito Non riesci a nasconderti Eh da quella Merda di cazzo Di cosa lì Ci hanno respinti Dall'obiettivo Dall'o puttana che fatica uno dei nostri obiettivi è andato perduto il nemico controlla l'intero settore niente ho tre ne avevo contro tre io lì basta si si no ecco fantastico ma fantastico nascere così con uno dietro nel culo ma fantastico cagare hanno due 3 VHX Ma porco Dio, ma dov'è? Ma dove cazzo è? Porco Dio Gli hai alle spalle in continuazione, proprio il gioco del dietro Obiettivo perso, dobbiamo riprenderne il controllo Continuo a morire, nasco, muoio, nasco, muoio Perfetto, sì, sì, dai, fantastico Impedite agli americani di conquistare tutti i settori Stiamo attaccato Charlie 1 Guardate qui, vieni a distanza Dio porco Luca, ma non l'hai visto Dio cane Ce l'hai lì a tua sinistra No, uno davanti, uno dietro e uno a sinistra Dove solo scegliere con quale morire Ok? Devo dirti Sono avanzato, mi sparavano una in culo e mi ha ucciso E tu eri lì, diciamo Sì, infatti Devo solo decidere dove morire Se davanti o dietro Ciao Vado di nuovo lì Adesso vado io nella galleria Facciamo il giro della galleria Nemico qui, 150 metri L'hanno rubato, bravissimi Che soddisfazione Quando arrivo alla schiena uno Vado un carro, troppo lontano per giudicare Beh, io ho passato in mezzo i proiettili Forze nemiche a Charlie 1 Perfetto, da dietro, dai Era quello che aspettavo Aspettavo da dietro Porco Dio, da dietro Ma no, ma io Basta, basta Vado a dormire Continuano uccidermi da dietro Sei volte da dietro Il giro del dietro Sette Appena nato Perfetto Nove, sette Dai Facciamo l'ottava Dai Mi lasciamo il C1 No, adesso mi ha fatto nascita Niente, eh Mi ha inseguito l'elicottero Hanno appena preso il settore delta Se non ritorniamo Gli americani prenderanno tutti i settori Ti stanno sparando nel culo, vai Eccolo Ma come hai fatto che ero sdraiato per terra Porco Dio, sul te Mamma mia, puttana Dobbiamo sparare più a raffiche, Luca Ma sì, ma ce l'avevo attaccato la Madonna Bisogna sparare più a raffiche Mi scrivete a gritto, va Assistenza Assistenza Ha dato l'assistenza Gli americani attaccano uno dei nostri obiettivi Sì, senza 130 metri Andiamo in bravo, buona Andiamo Buona fortuna, squadra Ho trovato un nemico Allì, il carico Porco Dio, ho messo il nado Madonna 32,8 Quaca, X Quanto mi manca per far fuori sto cazzo di fucile? Dov'è? Quattro kill mi manca, dai Porco Dio, ce la faccio Perché siamo uguali 10-10 E' schifo 10 no Allora, se è 10-10 Non l'ho neanche preso Non t'ho rubato Non l'ho neanche preso No Ecco Guarda Porco Dio, mi ha fatto La Madonna Troia Porco Dio Eccolo l'altro Dietro Dio Madonna puttana Madonna puttana Decima volta da dietro Ma porco Dio Ma adesso Mi metto in quel corridoio Non mi muovo più Porco Dio Perché continuano ad arrivare davanti e dietro Mi metto in sto cazzo di corridoio Ma ha fatto nascere Va, 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 va Nato adesso che già mi spara No, io sono nato davanti a uno Adesso è morto Controlliamo il settore, bravo Fatto c1 Ho nato davanti a uno Che mi ha ucciso A me vanno via Tu server qua E tu dici di no Guardate quel server Prima ne ho fatti 33 Adesso ne ho fatti 10 Eh, il server, eh Questo Porco Dio Ieri mi facevano Fatti 30 Adesso devo morire Scusami E prima ho fatto 33 kg Adesso ne ho fatti 11 Il carro L'ho fatto atterrare il carro sopra Allora Sto S4 Lo riportiamo Del cazzo S4 E loro vedono me però Porco la madonna Ah no no C'è il carro lì C'è il carro lì Hanno fatto venire giù il carro lì E stanno lì sopra col carro Mamma mia Sì, guardate un bion Sì, guardate un bion Sì, guardate un bion Mi ha fatto un asce Si va a combattere Si va a combattere Liamateci in caso di bisogno mi serve solo un secondo guarda porco dio che era lì con ricatto ma dio cane ma come si fa a giocare così come si fa dio porco ad aspettare che le persone escono dalle porte ma porco dio sono morto 13 volte e 14 ma per forza ma esci c'è uno con ricatto sul sasso che ti aspetta potenziale minaccia segnalata vicino a te ho finito i colpi non è morto ho finito i colpi non era morto ma che caricatore odio perché non ho più i colpi mi ha ucciso un colpo malato con la m60 no Luca ero qui assistenza continuo a fare assistenza non mi registra i colpi un colpo mi ha dato un colpo un colpo ero 100% no ma c'è qualcosa che non va dai quando fa così il servo non è possibile guarda porco dio il carro ancora lì Boh la schiena Abbandona la partita C'è uno che campurava col carro lì da mezzo Ma il problema è che non ti registra i colpi Però fai 64 Ah ma scusa 128 andava meglio del 64 Ascolta ma non è possibile che io faccia una partita a 33 kg E una partita a 10 morto 20 volte con 60 assist Cioè vuol dire che non registra i colpi dai Cristo Questa qua ti dribula tutte le volte Sì ma dopo Secondo me se non mi servirà a puttare dopo l'aggiornamento A mercoledì sera che l'abbiamo provato non andava così male Ieri ho fatto due partite Una a 22 e una a 33 kg Adesso io finivo il caricatore e non era morto Sembra che ci sia più dispersione Ma se hai fatto la partita di prima non facevi un tempo a guardarli che moriva Dobbiamo reindirizzare tutte le truppe di SPAT nel Richtersfeld con la massima priorità Impossessatevi dell'impianto per il carburante missilistico e della macchina all'interno Se vi imbatteste in os potreste conoscerlo ma non fidatevi di lui Ha causato danni incredibili alla nostra sicurezza operativa Vi abbiamo appoggiato dall'inizio di SPAT Ricordatelo Comando chiudo No Io vado in C Mi butto giù Fate attenzione Vado in C Quello veniva da sinistra Obiettivi Alpha sotto controllo Settore in sicurezza Stiamo muovendo su Echo 1 Abbiamo il controllo della maggior parte dei settori Mezzo corazzato nemico Sei a 70 metri di distanza Elicottero segnalato Settore in sicurezza C'è uno dei nostri obiettivi Contatto Abbiamo incacciato il nemico Datemi la vittoria di SPAT Conquistate quei settori Buongiorno Buongiorno Anche sto serva non va in giù Il settore delta è sotto controllo Che sto rompicoglione morto tre assist il set uguale classifica lo vedi subito 3 assist vuol dire che non mi entra nei colpi che cazzo da qua adesso mi entra io non ci hanno ucciso neanche voi hai ucciso uno si vabbè ho visto qua c'è un carro sono qua bloccato da sto canto di carro stiamo catturando è arrivato uno che mi ha sparato col fucile a pompa in faccia sono stato un coglione io la bomba in mano porco dio ma sono nato col carro che mi faceva esplodere ma porco dio porco dio questa sigla dico porco dio non registra i colpi dai porca madonna non è possibile ricarico copritemi stanno abbracciando davvero tante risorse niente porco dio niente 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 sono qua dentro eh sono morto che devo fare che devo fare due tre ma perché si è morta di soli ooooh no non ci sono i due E li patrò dietro il culo Niente vedi? Hai visto Ti ho lasciato 78 E lui con un colpo mi ha ucciso Non è possibile che ho 4 kill e 4 assist Vuol dire che non va Non è possibile che vanno via così Boh cos'è Serve solo un secondo Indietro che la metà partita Guardate il mio indicatore Nemico segnalato Controllano il settore Charlie Oh mamma Guarda da dietro Dio porca che non ti ho preso Tutti con il VHX Usano solo il VHX Il gioco del VHX E' il gioco del VHX adesso Ehm 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 Marlboro Porco Dio in due In due per ammazzarlo Il settore delta è caduto in mano nemica Abbandonatemi State indietro Il due nei due sotto Lo sono io e ce ne due Niente ammazzano tutti VHX Non tutti i VHX Adesso lo prendo anch'io Adesso lo toccare Niente ragazzi Siamo in 12 contro 1 Così non si fa un cazzo Se è 1 contro 12 Ma dove cazzo sono i nostri soci Dove sono Dove sono Ma dove cazzo sono In F Andiamo in F E prendiamoli da dietro Che cosa vuoi che ti dire Sono tutti in F Ma che cazzo fanno i in F I in F erano E noi lì da soli Come due cretini E cercare di fare la bandiera Abbiamo catturato il settore golf I russi controllano la maggior parte dei settori Obiettivi eco conquistati Ma io perché muoio con un colpo E loro Soldato ferito Porco dio Gli ho lasciato 47 Guarda che c'è uno qui Sei tu nato con me E morto Nato morto Nato morto Credi che sono nato morto E' lì Mi sono sdraiato Non riesco a capire dove cazzo è sto Mi ha laggato Mi ha laggato Ma dove cazzo è? Eh non lo so Sono andato Guardalo dio Porco madonna Madonna di quella Puttana i camper Madonna di quella puttana Porco dio Porco dio Il carro adesso Porco dio Mentre mi rianimavi Dio porco Dio porco Cioè ma veramente So è una lotta contro i camper ormai Andiamo al ciardo Dov'è che ti dico Vi terremo sott'occhio Ah c'è di di coricati sul sasso Cioè vediamo un cecchino che mi spara Andiamo indietro Occhio Hanno preso il settore eco Li abbiamo scossi Direi che siamo a metà dell'opera Sotto stile in movimento 60 metri dalla nostra posizione Charlie L'ho saltato giù Che c'era uno che mi sparava Per trovarmene uno sotto Che mi sparava Guarda Ho bisogno di una mano Luca Non so neanche dove cazzo Mi sparano nel culo Christian Guarda che C'è schienato Dio bastardo Ma porco di quel dio Ma com'è possibile Avere sempre qualcuno dietro Madonna Anche il settore Guarda Ancora due volte Di seguito da dietro Dio porco Da una parte e dall'altra Direi che c'è schienato Dalla base nostra Non ha prezzo Dio care Ma sono sempre le che ti guardano Ma è Un colpo ti danno Un colpo Uno Porco di Mezzo corazzato nemico È parecchio lontano Morda Basta 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 Non ti va a morire Un colpo Basta Basta Porco di Porco di Porco di Ho sempre qualcuno Coricato dietro il culo Porco di Anche a stare fermo Ho uno coricato nel culo Non ha senso Non ha senso Proprio C1 No sono uscito Vado in C Io sono uscito Basta Fai una partita Fai 33 kill Fai l'altra partita Tutta assistenza È sempre morto Ma non ha senso Non è Una Fai la la c42 è diventato di nuovo devastante ti dà un colpo sei morto mi ha dato una raffica adesso era al 100 per cento di energia ma solo riprovo hanno fatto qualche cosa con gli hanno sminchiato di un guava ma non abbiamo di nuovo più un cazzo ma che cazzo vuoi fare e pittori guarda porco dio ho sparato prima è rimasto 60 non può non aver registrato i colpi ho sparato due secondi prima due secondi prima ho sparato dopo la pace ragazzi un disastro dopo la pace un disastro tu non puoi fare più un cazzo mezzi non c'è mai un cazzo la cazzo è iniziato a fare più un cazzo Grazie. Grazie. Parco Dio, parco Dio, parco Dio. Grazie. Parco Dio, parco Dio, parco Dio. Basta dai, Giacomo è l'una, cosa aspetti? Sì. Parco Dio, parco Dio. Parco Dio, parco Dio, parco Dio, parco Dio.